direttore non posso non parlarti di una vicenda che parte da facebook per cercare di capire il giorno 18 agosto l'architetto messina su facebook scrive che trova quindi dice agrigente il centro storico la via tenea tutto muto silenzio pochi passi di turisti e qualche agrigendino che vagano nel silenzio di una città che dorme continua nel suo post michele messina e mi hanno coinvolto dicendo mi è successo a margine di questo posto che è entrato in campo l'avvocato camilleri consulente del sindaco e il direttore roberto sciarratta e io sono andato a vedere c'è stato un botte risbosta anche come dire polemico pesantuccio tra voi due camilleri dice che è un piacere leggere che le dell'amministrazione secondo visibile condivise con una delibera di giunta di fine aprile è stata affidata una somma al parco valle dei templi che impegnava l'ende anche per sperimentare un mese di fine settimana e si stanno aspettando qui poi poi dice la somma non gestita dal comune ma prima al direttore parello e adesso al direttore sciarratta è ancora parcheggiata senza effetti leggetevi la delibera la delibera per intenderci è la delibera 46 dell'14 2019 che io ho letto che ha per oggetto c'è liberazione dei 2600 anni dalla fondazione della cragas comitato per 120 20 quindi l'oggetto è questo tu risponde in una piccata e dici testuale risponde in quanto chiamate in caso da camilleri il comune non ha dato alcun mondo al parco per organizzare eventi non capisco perché il parco dovrebbe organizzare eventi in nome per conto del comune per favore astenetevi dal dire bugie la pubblica amministrazione una cosa seria se qualcuno vuole addebitare ad altre responsabilità lo faccia nei modi luoghi e tempi che questo stato di diritto impone si sta parlando di un qualcosa che riguarda l'estate agrigentina nel posto di michele messina di una battuta del consulente del sindaco l'avvocato enzo camilleri e la tua risposta che ho dato colletto adesso ma io ho semplicemente risposto una sollecitazione che ho letto seguendo facebook si faceva il mio nome si faceva un addebito di insolvenza progettuale rispetto a delle somme che non state date si parla di una delibera di aprile insomma mi è sembrato giusto chiarire alcuni aspetti così semplici ma io sono insediato direttore dal 3 di luglio quindi ad aprile non so cosa è successo di fatto ad aprire al parco non era successo nulla e neanche l'architetto parello aveva una contezza ufficiale di quello che c'era in realtà nel primo consiglio del parco del 15 luglio cioè di un mese fa viene approvata una variazione di bilancio per cui il comune per le celebrazioni di agrigento 20 20 assegna al parco archeologico una somma di 120 mila euro ai fini della relazione di una progettualità per gli eventi di agrigento 20 20 se capisco dalla dall'intervento 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 al quale ho risposto che fa riferimento a questo trasferimento non c'entra nulla con quello di cui parlava l'architetto michele messina michele messina parlava di dell'estate del 2019 e ovviamente quando vengono affidate a luglio del 2019 delle somme per la progettualità per cui come destinare questi fondi pubblici ai fini delle celebrazioni 20 20 è chiaro che l'ufficio sta lavorando su questa linea cioè sulla progettualità da potere poi riportare al comitato agrigento 20 20 per quelle che possono essere le manifestazioni di celebrazione di agrigento 20 20 l'estate di agrigento 2019 non era né nella mia testa ma non era né le attribuzioni che mi sono state demandate solo questo volevo dire noi non c'entriamo nulla con le celebrazioni estive di una città di agrigento noi siamo stati chiamati a progettare gli eventi per agrigento 20 20 cioè per il prossimo anno io ho come dire immediatamente sentito tramite whatsapp l'avvocato camilleri chiedendogli appunto di parlare di questo botte a risposta e l'avvocato camilleri mi ha detto che non gli sembra il caso di parlarne e non è necessario mi ha invitato a leggere il la delibera al punto 7 delle premesse al punto 5 della proposta e io ritengo che quello che dice in questo momento il direttore del parco roberto cerratta è quello che è cioè nel punto 7 delle premesse nel punto 5 non si parla assolutamente dell'estate agrigentina ma si parla del del come dice l'oggetto della delibera delle celebrazioni 2600 anni dalla fondazione acracas comitato per agrigento 20 20 questo è giusto che io lo sottolini ed è giusto che sottoline anche il fatto che mi sono occupato di questa vicenda perché il posto dell'archietto messina condivisibile per me è stato seguito in città in una maniera incredibile tant'è che ha circa 280 290 se non ricordo male commenti e interventi rimango io a disposizione di chi eventualmente il sindaco firetto l'avvocato camilleri voglia precisare qualcosa e grazie per la precisazione ma era dovuto non fermo restando l'idea che ognuno di noi possa avere in private pubblicamente e i doveri d'ufficio sono un'altra cosa io sono demandato alle cose che poco fa ho citato celebrazione 120 20